Nell'ultimo periodo in città si rincorrono le voci su di una presunta spaccatura della minoranza dell'amministrazione agropolese formata dai consiglieri Agostino Abate, Gisella Botticchio e Consolato Natalino Caccamo. Ai nostri microfoni Agostino Abate ha accolto l'occasione per smentire queste voci infondate dichiarando di un rapporto di assoluta coesione con visioni e obiettivi condivisi. Cercheremo di ottenere insieme i successi che ci sono dovuti. Abate chiude così questa vicenda cancellando le voci su una distanza fra i consiglieri dell'opposizione? Assolutamente no, lo nego subito a priori. Proprio noi tre consiglieri ci sta assoluta compattezza. Tutte e tre abbiamo la stessa visione, tutte e tre perseguiremo lo stesso fine, cioè quello di far rientrare Agropoli in uno stato di diritto. Ecco stamattina io sono stato qua di fatti proprio per far rientrare il tutto in uno stato di diritto. Cioè io non ho più interesse o perlomeno non l'ho avuto mai, un interesse a portare avanti un principio che possa essere un principio di partito o un principio della politica. Io sono stato sempre per un solo principio, il principio di diritto. Ed è su questo che tutte e tre siamo d'accordo e battagliamo insieme. Cercheremo di ottenere i successi che ci sono dovuti. Abate inoltre ha preso parola anche sul suo nuovo schieramento politico Fratelli d'Italia precisando di non essere mai stato un uomo di partito e di non sentirsi come tale, ma di sentirsi un semplice cittadino che pensa al proprio territorio. Agostino Abate ha anche dichiarato di essere entrato in questo nuovo partito per un legame di amicizia con l'onorevole Cirielli. Ma come siamo strutturati è una domanda un po' difficile per me, per me che non sono stato mai un uomo di partito, tantomeno forse sono un politico, io sono un semplice cittadino che pensa al proprio territorio, che pensa di portare successo al proprio territorio perché lo merita. Che cosa succederà in questo partito, in Fratelli d'Italia e in altri partiti non lo devi chiedere a me perché effettivamente veramente non sono preparato. Io non sono stato mai un uomo di partito e molto probabilmente non lo sarò mai. Mi ritrovo nel partito Fratelli di Italia per una vicinanza all'onorevole Cirielli, per un'amicizia che mi lega all'onorevole Cirielli e perché credo nell'onorevole Cirielli. Di conseguenza tutto quello che sarà da venire lo vedremo, lo verificheremo e daremo soddisfazione anche al partito se effettivamente lo merita. È da vedere.